Ma è sicuramente una partita positiva, sono contento, ma soprattutto sono contento del risultato della squadra che è riuscita a dar continuità alle tre vittorie consecutive e niente, ci dà entusiasmo e ci dà modo di lavorare ancora meglio e di toglierci delle soddisfazioni. Si è parlato tanto di te quando le cose non giravano all'inizio campionato, tu come l'hai vissuta e come stai vivendo questo dualismo con Viero? Il dualismo con Viero è la giusta competitività che ci deve essere in un gruppo forte, il calcio è fatto di momenti, il momento iniziale andava male per cui si prendono le critiche, si portano a casa e si cerca di lavorare per fare quello che poi siamo riusciti a fare che abbiamo ribaltato un po' la situazione, però non abbiamo ancora fatto niente, dobbiamo continuare, però sicuramente siamo contenti di quello che stiamo facendo. Quarta vittoria consecutiva è il Teramo che si proietta nei piani alti della classifica? Ma sì, sono piani alti o meno, in questo momento vale poco, conta poco, sicuramente è un Teramo che sta facendo risultati, che sta dando continuità e che sta crescendo di partita in partita, ecco, questa è la cosa più importante. Intendete adesso domenica mostrare anche in trasferta questi progressi che avete già fatto vedere qui al Bonolis? Ma è un'altra partita che sicuramente avrà delle difficoltà diverse rispetto a questa, bisogna prepararla bene in settimana dopo la partita di Coppa di mercoledì e metterci il massimo impegno per continuare. Proviamo a trovare un po' il pelo nell'uomo, perché è una squadra che gioca e domina la gara, vince 1-0. Ancora una volta abbiamo sciupato troppo? Ma sì, potevamo chiudere la partita, perché poi dopo l'episodio può sempre capitare. Effettivamente sì, potevamo essere più bravi a chiudere la partita, però l'importante è averla portata a casa. E arrivati a questo punto, ormai avete capito cosa vuole Tedino da voi, lo chiedo soprattutto a te che sei il regista e magari hai dovuto ambientarti alle idee del mister. Ma sicuramente quando una squadra è nuova e tutto nuovo deve cercare un po' di conoscersi, di trovare gli equilibri più che altro in campo e magari abbiamo un po' sofferto quello, però sono stati bravi a compattarci, a lavorare sempre, a crederci e poi i risultati si stanno vedendo.